motori più efficienti, più puliti, più silenziosi. Nasce in Piemonte la tecnologia dei motori aeronautici del futuro. L'Unione Europea, insieme al gruppo di esperti ACARE, ha chiesto agli operatori del settore di ridurre entro il 2020 l'impatto ambientale degli aerei, meno 50% di CO2 a livello velivolo, meno 80% di ossidi di azoto e 10 decibel in meno di rumore. Great 2020 nasce per sviluppare le tecnologie motoristiche che consentano il raggiungimento di questi traguardi. AvioAero, una rete di imprese piemontesi ad alta tecnologia e il Politecnico di Torino, hanno dato vita a sei laboratori di ricerca, mettendo insieme un patrimonio fatto di attrezzature, esperienze e competenze diverse. Great 2020 nasce con il supporto della regione Piemonte, che è intervenuta con impegno e risorse per sostenere la filiera aerospaziale del territorio. I sei laboratori si sono focalizzati sulle tecnologie strategiche in grado di rendere i motori del futuro più sostenibili, materiali innovativi per strutture più leggere, tecnologie per rendere la turbina al massimo dell'efficienza e più silenziosa, sistemi di trasmissione di nuova generazione, sistemi di combustione a basso impatto ambientale, sistemi di diagnostica e prognostica per monitorare lo stato di salute del motore e dispositivi per la generazione di potenza elettrica per i velivoli more electric. Processi di trasformazione eco-compatibili e più competitivi per la riduzione del time to market. Great 2020 ha sviluppato le tecnologie che permetteranno ai motori del futuro di inquinare meno. In vista del raggiungimento dei traguardi fissati per il 2020, già oggi sono stati conseguiti risultati rilevanti. Meno 18% di emissioni di enidride carbonica, meno 60% di ossidi di azoto, 8 decibel in meno di rumore. Il progetto ha generato risultati importanti non solo sul piano tecnologico, 60% le tesi di laurea e di dottorato sulle tematiche oggetto di ricerca, 50% le pubblicazioni scientifiche a livello internazionale, 20% le assunzioni di giovani ricercatori nelle imprese coinvolte. Great 2020 consolida la leadership del Piemonte come area di eccellenza a livello mondiale per il settore della motoristica aeronautica e le apre una porta sul futuro di questo settore e sulla possibilità di partecipare alle prossime evoluzioni del motore aeronautico. Grazie anche a Great 2020, AvioAero, le altre imprese del territorio e il sistema della ricerca piemontese saranno in prima fila a guidare questa evoluzione.